Continuano gli eventi dedicati alle bici in Irpinia, Montacuto. Arriva la settima edizione della Crono Scalata, città di Montacuto. La tappa inserita nel circuito del campionato intergionale ciclocrono CSI 2024 della quarta tappa della manifestazione. I ciclisti dovranno ritrovarsi domani alle ore 13.30 in Piazza Largo Fiera, prima dello start ufficiale previsto per le ore 15 all'incrocio dell'area industriale della strada provinciale numero 26. I partecipanti partiranno uno alla volta e saranno distanziati un minuto dall'altro. Il percorso totale dell'Hackermess è di 6,3 km con pendenza media del 5% e massima dell'8% e c'è un dislivello di 300 metri. Il cronometraggio è curato da Celestino Anzivino di Speed Pass, l'Irpinia protagonista con il team del Eco Evolution Bike di Tripalda. Prenderanno parte alla manifestazione dedicata alle due ruote la famiglia albanese con Anna Lisa, campionessa Master e Giuseppe insieme ad Angelo Ruocco.